Radio Bari.doc, documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. E questa era Get Your Groove On di Gianni Vancini featuring Kenya Hathaway. E ora invece nel nostro punto doc parliamo di teatro, di un appuntamento di questa sera al Teatro Bravo con uno spettacolo molto molto carino, Domani mi sposo. Una lettura un po' ironica del matrimonio raccontato attraverso le parole e lo sguardo di quattro donne di una proprietaria di un'agenzia immobiliare matrimoniale, scusate Olga, con tre sue clienti. Insomma, uno spettacolo tutto al femminile, molto divertente. Ci sarà anche una nostra conoscenza, una nostra amica Lidia Pentasuglia, una delle voci di Radio Bari. Quindi andatelo a vedere per info e prenotazioni. Al Teatro Bravo questa sera vi lascio i numeri di telefono 080-467-3175 o 339-277-3493. Insomma, andatelo a vedere perché deve essere uno spettacolo molto 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 carino. In chiusura, vi ricordo la nostra pagina Facebook è radiobari.calte e il nostro indirizzo mail è .calte.chiocciolaradiobari.net. Ringrazio Federico Semplice per la regia di Telebari e Gianluigi Maggi, Gigi, per la regia di Radio Bari. Io vi ringrazio per averci seguito. Noi ovviamente torneremo domani, stesso posto, stessa ora, sempre con tanti ospiti, tanti appuntamenti. Ce ne sono davvero tanti a Bari durante la settimana, non mi scorderò mai di dirlo, mi scoccerò mai di dirlo. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti, a domani. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.